Bari non svetta tra le migliori città per il lavoro in Italia e quanto emerge dalla classifica dei 110 capoluoghi di provincia stilata dalla fondazione IDP promossa dall'Associazione Italiana per la Direzione del Personale. Il capologo pugliese si piazza insieme a poche altre città del sud, tra cui sempre in Puglia, Lecce, in una fascia intermedia, fascia gialla anche per la città di Matera, in particolare la classifica Città del Lavoro 2023 elaborata con la collaborazione scientifica di Isford e suddivisa in tre fasce cromatiche, verde, gialla e rossa. La prima corrisponde alla fascia dei promossi della classifica, la seconda che riguarda le città che si attestano su valori intermedi tali da non raggiungere il riconoscimento. La terza fascia infine è quella a cui appartengono le città con i punteggi più bassi. In fascia gialla insieme a Bari e Matera ci sono Cesena, Cunio, Reggio Emilia e tante altre. Le città pugliesi che figurano in fascia rossa sono invece Brindisi, Taranto, Barletta, Foggia e Andrea. Per stilare la classifica, come si legge sul quotidiano online Bari Today, sono stati presi in considerazione sette parametri. I fondamentali economici, i servizi di cittadinanza, i trasporti e le accessibilità, la cultura, il tempo libero e la sicurezza, ma anche la vivibilità ambientale, l'inclusione, i diritti e le pari opportunità, il futuro e l'innovazione.